Edizione numero 9 per la Fiera Agricola del Santerno organizzata dal Comune di Imola insieme al Consorzio Canale dei Molini e alle Associazioni Agricole del Territorio qui nel complesso di Sante Zennaro. Tre giorni dedicati all'agricoltura in tutte le sue sfaccettature dalla zootecnia presente in primo piano con tutte le principali razze del territorio, quest'anno anche con la mostra nazionale del cavallo agricolo italiano Tiro Pesante Rapido come novità assoluta. Ma poi naturalmente in primo piano anche gli asini, l'asino romagnolo che è stato protagonista di un progetto di rilancio che è partito circa 20 anni fa. Ma gli spunti come dicevo sono davvero tanti, coinvolgono anche una coltivazione importante come quella della canapa con tutti i suoi possibili impieghi a livello anche appunto industriale. E poi naturalmente i laboratori didattici, i produttori del territorio che propongono i loro prodotti tipici dalla frutta, gli ortaggi, il vino, il miele e tanti anche convegni e momenti di approfondimento. Una bellissima partecipazione per la non edizione della Fiera Agricola del Santerno qui a Imola, tantissimi visitatori per questo evento che è rivolto non solo ad un pubblico di agricoltori ma anche naturalmente a tutta la famiglia con tanti bambini che possono anche vedere da vicino tante razze di animali. Quest'anno tra le novità la mostra nazionale del cavallo agricolo italiano TPR, tiro pesante e rapido ma ce ne sono anche tante altre di novità e ce le racconta Patrick Cavina, assessore all'agricoltura del Comune di Imola e anche vice sindaco della città. Sì siamo arrivati appunto alla non edizione della Fiera Agricola del Santerno, un'edizione che ha visto numeri da record, oltre 40.000 visitatori nell'arco delle tre giornate con numeri da record anche per quanto riguarda le aziende che hanno partecipato del territorio. Oltre 130 espositori e 11 convegni per quanto riguarda l'agricoltura tutti molto seguiti. Poi siete riusciti a portare a Imola la mostra nazionale del cavallo agricolo italiano tiro pesante e rapido dopo tutte le edizioni precedenti che erano a Fiera Cavaglia Verona quindi anche questo è un momento sicuramente molto significativo. Sì è un momento molto importante per il territorio perché comunque il cavallo da tiro faceva parte anche del nostro territorio. In più abbiamo portato anche la canapa. Noi crediamo molto in questa pianta e abbiamo fatto dei convegni, portato aziende, scuole per quanto riguarda la lavorazione della canapa che hanno informato la città di Danza e anche gli imprenditori per quanto riguarda appunto la lavorazione di questo prodotto. Di lavorazioni che sono tantissime, dalle bioplastiche agli usi anche industriali naturalmente, edili, i tessuti. Quindi è una pianta che può essere valorizzata. Sì è una pianta che deve assolutamente essere valorizzata. Dobbiamo togliere assolutamente la plastica dalle nostre abitudini, dal nostro quotidiano e per il prossimo anno vi do questa novità. Chiederemo appunto a chi parteciperà a questo evento di eliminare tutto quello che riguarda la plastica perché riteniamo appunto che in un momento come questo bisogna difendere il territorio e l'ambiente togliendo la plastica. Quindi proporremo ovviamente il plastic free in modo tale da eliminare la plastica in questi eventi di rilevanza anche nazionale. Vorrei concludere ringraziando tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, le associazioni agricole che hanno partecipato organizzando convegni e il canale di Molini, uno dei partner importanti per la fiera agricola anche quest'anno. Uno degli approdi più belli qui alla fiera dell'agricoltura sul Santerno a Imola è l'arrivo di una sessantina di capi di cavalli agricoli italiani da tiro pesante rapido, più brevemente TPR, che partecipano per la prima volta in questa occasione alla 82esima mostra nazionale. Un cavallo molto particolare con una storia davvero intensa perché risale praticamente alla fine dell'Ottocento, poi fu all'inizio del Novecento che venne in qualche modo codificata, ebbe fasi alterne perché si tratta di un cavallo molto robusto, di mole pesante, molto rustico, adattabile a tanti climi. Dalla pianura padana poi si è espanso anche perché se all'inizio serviva per trasporti militari, poi nel tempo la sua importanza è diventata soprattutto legata a motivi agroforestali, di fienagione, di sboscamenti, lavora anche a basso impatto ambientale e oggi come oggi col turismo equestre pare che il quadro possa essere definito. Allora, in questi anni 2000 è una delle razze più consistenti che ha superato addirittura i 7000 capi. Quindi qual è il presente di questa razza? Lo chiediamo a Marco Lucchetti che è presidente dell'associazione Anacai TPR. Intanto Anacai TPR è l'associazione nazionale cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido. È un nome che descrive un po' la razza. La razza, come ho detto, nasce nei fini Ottocento, poi all'inizio del Novecento viene sviluppata per la guerra, c'erano necessità di cavalli veloci e forti che trainavano carri da guerra e lì inizia i primi anni di selezione. Per anni è stato introdotto un cavallo francese, Bretone, per migliorare le caratteristiche morfologiche di questa razza. Con il tempo si sta creando una razza tutta sua, perché ormai sono 15 anni che lavoriamo solo con stalloni TPR, quindi si sta creando una razza tutta TPR. È una razza con delle notevoli potenzialità, è una razza tutto tondo, che si adatta molto bene a molte temperature, infatti si è diffusa in tutta Italia. La troviamo a Bari, in Puglia, qui ci sono allevatori presenti che vengono da Matera, da Bari, e ci sono allevatori che vengono dal Piemonte, dall'Appennino, dall'Abruzzo, dall'Appennino di Amatrice, però è un cavallo molto sfruttato per quanto riguarda lavoro agricolo, in particolare nei primi anni del Novecento, perché in tutte le pianure, in particolare la pianura padana, veniva usato il cavallo, un cavallo veloce, un animale veloce per un lavoro agricolo tendenzialmente snello. Poi col tempo, se è andato avanti con la selezione, adesso è un cavallo molto apprezzato per passeggiate, quindi un cavallo anche sportivo e un cavallo anche da lavoro boschivo, come ha detto lei. Infatti sulle zone di alta montagna, dove i trattori non possono arrivare, meno male che abbiamo il cavallo TPR o derivati dal cavallo TPR. Ecco, tra l'altro dobbiamo dire che si inserisce a pieno titolo in quello che è il contesto odierno della ricerca di biodiversità e della salvaguardia ambientale, oltre che dell'aspetto che integra agricoltura e turismo. Quindi diventa anche per gli agricoltori, gli allevatori, un'integrazione di reddito, una nuova opportunità? Sì, è una nuova opportunità, in particolare sta prendendo molto piede su aziende biodinamiche, dove si cerca di abbandonare l'uso del trattore, l'uso di motori a scoppio per un basso inquinamento. Il cavallo, in particolare sui vigneti, sta partendo con dei lavori agricoli, biodinamici e è molto apprezzato. La nostra razza sta sostituendo tutte le razze che venivano importate prima. Ecco, mi pare di capire che ci possa essere proprio un invito ad agricoltori e allevatori ad interessarsi sempre di più a questa razza, anche perché sono sufficienti pochi capi che possono essere affiancati anche ad altri allevamenti e tanti sono gli esempi anche nei territori imolesi e nelle colline rappresentate. C'è proprio un emblema di questa razza, c'è un libro genealogico e ci sono delle caratteristiche morfologiche che credo anche in questa giornata verranno premiate. Qui abbiamo avuto un livello di mostra veramente stratosferico, diciamo erano circa 30 anni che non si raggiungeva un livello numero di animali con 70 capi iscritti a catalogo, 64 presenti dentro il ring tutti con un livello veramente molto alto, infatti molti soggetti hanno preso una qualifica al di sopra ad elite, quindi veramente molto contenti. Gli allevatori della manifestazione sono rimasti e anche i visitatori hanno apprezzato moltissimo la bellezza di questo cavallo e l'adattabilità alle diverse condizioni di questo cavallo. Grazie mille, allora a questo punto possiamo dire che dall'antica storia dei birrocciai con cui si percorrevano le strade polverose anche in queste terre si è passati appunto a delle caratteristiche importanti, però attacchi, carie e passeggiate continuano a resistere insieme ad un'agricoltura sempre maggiormente biosostenibile. Allora qui tra i tanti laboratori abbiamo scelto quello della ricotta insieme all'azienda agricola Caboi, ricotta proprio appena fatta e come si fa appunto? Portiamo da qui. Una volta che abbiamo fatto il formaggio dal siero, lo portiamo a 70 gradi, ci mettiamo un po' di latte, latte di pecora sempre, poi si va avanti sempre a girare fino a che arriva a 80 gradi, 85, ci mettiamo un po' di sale, un po' di limone e poi si fa raffermare, inizia a venire sulla ricotta, piano 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 piano, che fiorisce e poi dopo diventa così liscia, diciamo così, viene un lavoro di questo tipo qui. È un peccato che con la telecamera non si possono sentire i profumi. È un profumo meraviglioso. E quanto bisogna aspettare prima di mangiarla? Ma se uno ha del coraggio anche pochi minuti, però si può aspettare, non so, una mezz'oretta, la mangia tiepide. Allora qui andiamo a riempire un altro cestino di ricotta per la fatta, grazie all'azienda agricola Caboi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ma ci ritroviamo tra poco sempre da Imola, dalla Fiera Agricola del Santerno. A tra poco. Riprendiamo la linea dalla Fiera Agricola del Santerno di Imola, accanto al comune, l'altra anima organizzatrice è il Canale dei Molini e insieme naturalmente anche alle associazioni agricole del territorio. Però qui con noi Carlo Nicolai, presidente del Canale dei Molini, perché vogliamo raccontare questa partecipazione qui alla Fiera del Santerno, tra l'altro la fiera che continua a crescere con tantissimi visitatori. Ci sono anche dei momenti importanti con i bambini di laboratori, di approfondimenti sui temi ambientali. Noi ormai dopo nove anni continuiamo questa collaborazione col comune di Imola, anche se ci vantiamo di essere un po' quelli che abbiamo dato dieci anni fa, il primo segnale di vita a questa manifestazione molto embrionale. Abbiamo continuato e io mi auguro che continueremo questo rapporto. Adesso il nostro è una presenza essenzialmente mirata ai bambini con questi laboratori che cerchiamo di sviluppare con queste due associazioni scientifico-culturali, Artena e Scienze, con cui ormai abbiamo un rapporto consolidato e che sviluppano ogni anno qualche cosa di nuovo, sia nel tema scientifico, sia in quello della storia del canale, della vita del canale. Cosa imparano i bambini? In questo momento cosa stanno facendo? In questo momento credo che imparino da un lato come funziona l'acqua, dall'altro come funziona il canale, da dove nasce, dove arriva, a che cosa serve. Non è semplicemente un trasporto di acqua, ma è un utilizzo agricolo, è un utilizzo potabile. Allora grazie a Carlo Nicolai, presidente del canale dei Molini. Adesso linea a Gabriella Pirazzini che ci parla di un altro dei punti centrali di questa edizione della Fiera Agricola del Santerno, la canapa, la coltivazione della canapa con tutti i suoi usi. Allora linea a Gabriella, noi ci vediamo dopo. Se nel secolo scorso eravamo tra i primi produttori europei di canapa con oltre 100.000 ettari coltivati, beh poi è arrivato il proibizionismo che ha cancellato tutto o molto, ma poi ultimamente se ne è ripreso a parlare anche come possibilità di coltivazione agricola utile non solo a realizzare tantissimi materiali ma anche per l'agricoltura stessa e il terreno. Insomma era quasi doveroso da parte della Fiera Agricola di Imola ospitare la scuola di canapa per raccontare le potenzialità di questa coltura oggi come oggi e ne parliamo con il direttore Diego Ladano. Allora con la canapa si possono fare molte cose, oggi ci può essere questa ripresa in atto? Beh assolutamente, l'Italia era il secondo produttore mondiale e avevamo da sempre la migliore qualità conosciuta al mondo. Il principale impiego era proprio la fibra, quindi immagino molti di noi ricordano le lenzuola, le tende, proprio il tessuto di fibra italiana conosciuto in tutto il mondo che non tutti sanno che il primo jeans che la Levis fece, si chiama proprio jeans perché è un po' la traduzione americana della propria città di Genova, che portava il tessuto che non era altro quello che utilizzavano per le navi, quindi un tessuto molto resistente portato fino ad America per utilizzare abbigliamento da lavoro. Ecco che oggi la Levis si rilancia nel mercato una linea di jeans fatti in canapa. Io ringrazio l'organizzazione di aver voluto qui la scuola e siamo proprio nell'ambiente ottimale dove un tempo era caratterizzata la coltivazione mondiale della canapa da fibra. Quindi noi siamo qui, questo è il terzo giorno della fiera e molto spesso qualche persona un po' più anziana si ricorda che qui proprio sul territorio c'erano i maceri, c'era la coltivazione della canapa, mio padre, mio nonno, quindi in realtà riproporre oggi la canapa è una certezza per l'economia e per la sostenibilità. Ecco c'è anche un discorso da fare, riprendere in mano quella che oggi si chiama la filiera, vale a dire dalla produzione alla trasformazione anche con marchi di qualità perché qui stiamo parlando appunto di tessuti ma si può parlare di carta, si può parlare ad esempio di materiale per l'edilizia o bioplastica, cioè ci sono vari utilizzi che però bisogna che arrivino alla grande industria e a un approccio sul mercato. Sì, dobbiamo considerare che oggi l'innovazione, la ricerca ha portato la canapa ad aprire molti mercati e molti utilizzi. Io semplicemente da una pianta posso ricavare più economie, quindi è molto importante la conoscenza, la metodologia e quello che oggi sono delle filiere che sono già presenti nel mondo e nel mercato. L'obiettivo è quello di creare delle filiere a chilometri zero e poter dare in ogni luogo, in ogni regione una completezza dalla parte produttiva del prodotto fino al commercio. Sicuramente un settore molto interessante è il food perché all'interno di semi di canapa ho omega 3, omega 6, omega 9, quindi è un super food. Dagli stessi semi ricavo gli oli e quindi è un'altra destinazione d'uso, un altro mercato e poi dalla pianta stessa, dal fusto c'è la parte fibrosa che serve effettivamente al test, se la parte del canapolo che è la parte cellulosa per la parte bioedilizia, molto importante oggi la Francia se io voglio una classe energetica più alta o classe A++, devo avere il cappotto fatto proprio della chambre, quindi di canapa. Allo stesso modo poi con la stessa cellulosa posso produrre la carta e riattivare tutta quella che è la parte della filiera del tessile, parte cosmesi, parte farmaceutica, bioedilizia, biocarburanti, quindi i mercati sono davvero esponenziali, quindi dalla stessa pianta ricavo più produzione o più destinazioni d'uso, quindi è fondamentale in questo momento, ecco perché nasce Scuola Canapa, quindi ci troverete su scuolacanapa.it, un servizio dedicato all'agricoltore, dedicato all'industriale, all'investitore che oggi crede nell'agricoltura come un'economia reale, un'economia concreta, quindi la scuola nasce ed è la prima entità, sono orgoglioso di dire che è la prima entità nel mondo perché abbiamo e stiamo aprendo anche scuole all'estero, portare la conoscenza, specialmente oggi che si parla molto di canapa a livello mediatico, è molto importante fare chiarezza sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista proprio pratico, è una pianta che dà una resa all'agricoltura, al piccolo coltivatore come alla grande industria. Premetto che la legge 242, che è una legge recente del 12-2016, poi attuata a gennaio 2017, promuove nel territorio italiano la coltivazione della canapa ad uso industriale. Qui siamo nel clima, nel terreno più ottimale per produrre una canapa di alta qualità, ovviamente con un'alta resa. Ecco, tra l'altro un'ultima notazione, la canapa è anche utilissima come coltivazione rispetto proprio al terreno, quindi è usata anche a livello di rotazione agraria che oggi è molto importante in epoca di sostenibilità. Concludiamo con il suo collegamento con la canapa, Barbara però non sono finiti i sipari dedicati alla Fiera Agricola del Santerno. Alla ribalta anche l'asino romagnolo, a circa 20 anni dal progetto di rilancio che sta portando a risultati importanti, Alberto Minardi, presidente di Asirara, alle nostre spalle anche uno degli esemplari vincitori della mostra quest'anno qui alla Fiera Agricola del Santerno. Come procede a questo progetto? L'asino ha ritrovato spazi importanti? Sì, il progetto procede nel modo migliore. C'è stato un grande livello di collaborazione tra la Regione Emilia Romagna, l'Assessorato all'Agricoltura, nella fattispecie, l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna e noi come associazione privata di Asirara, l'Associazione Italiana Allevatori di Razza Asino Romagnolo, per cercare di metterci ognuno per la propria parte quella quota di impegno che può portare ad uno sviluppo. Naturalmente noi che siamo una associazione privata, volontari a Onlus, cerchiamo di tenere coesi gli allevatori e di fare in modo che gli allevatori tutti gli anni portino in fiera i soggetti più qualificati e di maggior valore. Fino qui ci siamo riusciti, quest'anno abbiamo fatto una manifestazione che è stata decisamente più qualificata rispetto agli anni scorsi, avevamo 60 soggetti con la creme della creme, i migliori soggetti, anche soggetti che venivano da molto lontano, per esempio da Sondrio, da Brescia, eccetera. Ma che caratteristiche ha l'Asino Romagnolo? Bene, l'Asino Romagnolo è un asino di grossa taglia intanto, perché è la cosa principale. L'Asino Romagnolo era un asino da lavoro ed era un asino trottatore che si caratterizzava per percorrere lunghe distanze attaccato ad un calesse, serviva come utilitaria per il contadino povero, che non si poteva permettere un cavallo, il cavallo era più costoso e anche più delicato dal punto di vista delle malattie a cui era esposto. L'Asino è un animale più rustico, un animale che si accontentava molto anche da un punto di vista dell'alimentazione. Pensate che nelle nostre colline, nelle nostre montagne, l'Asino Romagnolo si cibava dei tutoli, che sono, non sono altro che la parte interna della pannocchia del grano turco, una volta che il grano turco è stato sgranato, così come si cibava del fieno ammuffito che le mucche non volevano. È un animale della povertà, è del microcosmo della campagna dei contadini. Benissimo, allora grazie per averci introdotto e raccontato le caratteristiche principali dell'Asino Romagnolo, dobbiamo lasciare spazio nel ring al cavallo, però intanto volevo chiedere proprio soltanto come si chiama l'Asino Vincitore? Vincitore, Ghiti Giuliano, vengo da Brescia, da Gedi specialmente, il nostro tifone quest'anno è un campione di riserva, l'anno scorso ho fatto il primo premio, già due anni fa ho fatto ancora il primo premio e al prossimo anno. Cavallo agricolo italiano da tiro pesante e rapido, gli asini romagnoli, ma tante le razze zootecniche, dalla vacca romagnola anche agli animali da cortile rappresentati qui alla Fiera Agricola del Santerno di Imola. Maurizio Garlappi come Presidente ARAER li rappresenta in qualche modo tutti. Sì, diciamo che ormai questa è una manifestazione che è in crescita costante tutti gli anni, perché da quando siamo entrati anche noi nella gestione, soprattutto con la collaborazione del Comune, perché questo è un grosso impegno, vi devo dire, che la pubblica amministrazione mette, che non in tutte le occasioni troviamo queste disponibilità e veramente ci permette di fare delle fiere ad altissimo livello, perché diciamo quello che è stato tre anni fa sulla mostra nazionale della Romagnola, quello che è stato l'anno scorso tutta la parte degli ovini e quest'anno c'è questo grosso appuntamento della mostra nazionale del tiro pesante e rapido che avviene in un momento, dobbiamo dire, di cambiamento nel sistema allevatori, perché oggi il sistema allevatori sta cambiando totalmente, soprattutto questo, soprattutto del TPR, è anche un aspetto legato alle biodiversità, perché sia la comunità, soprattutto il nostro paese, lo Stato italiano sta investendo molto sulla partita delle biodiversità e quindi di valorizzarle. Diciamo che appunto è stata nostra il fatto di proporre al TPR questo, vi devo dire, hanno accettato di buon grado e con anche grande soddisfazione degli allevatori. Ecco, tra l'altro allevatori disseminate in tutte le regioni d'Italia ormai, visto le caratteristiche di questo cavallo e soprattutto non più con duplice attitudine, ma con molteplici attitudini, dall'utilizzo in campo agricolo al turismo equestre, passando ovviamente anche per l'aspetto morfologico, estetico e riproduzione. Certo, infatti diciamo oggi il fatto di avere ancora una razza così diffusa, con certi numero meno, è proprio la polifunzionalità di questo cavallo che si presta a varie realtà e quindi è considerato un cavallo agricolo, ma che ti permette sia nelle manifestazioni che negli altri aspetti di poter ottemperare tutte quelle che sono le esigenze di un allevatore. E che fiera sarebbe se non ci fosse un vino ad accompagnare non solo le libagioni, ma queste belle giornate d'estate qui alla Fiera Agricola del Santerno e allora ad ospitarci lo stand della DOC dei vini dei Colli di Imola, qui con noi Ettore Tamburini a rappresentarlo, anche tanti amici a rappresentare le giovani generazioni. E già questo è un punto importante, ma come stanno andando questi vini? Si sono davvero affermati? Sì, proprio ieri sera c'erano diversi clienti che dicevano che sono tutti vini molto buoni, quindi una soddisfazione per tutti quanti, non per una singola cantina. Ed è questo lo scopo che vi vede qui in Fiera, portare anche a rotazione tutte le cantine a presentarsi insieme a tutte le bottiglie e di fatti noi qui ne abbiamo una rappresentativa, altre sono allo stand. Così a questo punto siamo pronti per il brindisi che non è finalissimo ma quasi finale, Barbara. Esatto, perché adesso noi ci salutiamo da qui con un brindisi dalla DOC Colli di Imola, però sul finale di puntata, dopo aver dato la linea a Claudio Ferri con A Cielo Aperto, ci ritroveremo da qui, dalla Fiera Agricola del Santerno, per i saluti conclusivi di questa puntata. Però intanto prendiamo un calice, cin cin, alla Fiera Agricola del Santerno e alla DOC Colli di Imola. Allora, per i saluti finali siamo tornati alla Fiera Agricola del Santerno nel complesso di Sante Zennaro. Prima di salutarci vogliamo anche ricordare tutte le realtà, tutti gli stand gastronomici, le sagre del territorio che hanno curato la parte della ristorazione. Qui con noi anche la festa del Garganello di Codrignano. Voglio ricordare anche tutti gli altri stand, quindi Tossignano con il gruppo Polentari, con i maccheroni, la piefritta di Fontanelice, poi anche la Proloco di Belvedere, la Proloco di Mordano, gli hamburger della Clay, i vini della DOC, dei Colli di Imola e le birre artigianali del territorio. Quindi questa tutta la parte di ristorazione, la parte più strettamente legata alla fiera, alla zootecnia, alla canapa, agli incontri, gli approfondimenti, ve l'abbiamo raccontata nel corso della puntata. Vi salutiamo allora da qui, vi ringraziamo anche per essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento alla prossima puntata tra sette giorni, alla solita ora, un saluto! Sì, Codrignano! Sì, Codrignano!